Collocate a Pordenone due nuove pietre d'inciampo, le targhe che ricordano le vittime del nazifascismo. L'iniziativa si è svolta nell'ambito delle celebrazioni 2021 per il Giorno della Memoria, organizzate dal consigliere comunale e regionale Alessandro Basso. Dedicate a Bruno Barzotto e Anto Zilli, le due pietre sono state collocate davanti all'ospedale cittadino, dove i due studenti di medicina erano tirocinanti. Zilli fu fucilato a Giais di Aviano, mentre Barzotto morì a Dacau. Ad entrambi venne poi conferita la laurea onoris causa. Diciamo che io fin da piccola ho vissuto questa storia attraverso il papà, perché è suo fratello, colui che viene commemorato oggi. In questo momento lo sento molto vicino, anche pur non avendolo conosciuto. Ringrazio tutta l'organizzazione per questa cosa e per tenere viva soprattutto la memoria di queste persone che in prima persona hanno partecipato, ma soprattutto hanno contribuito a quello che stiamo adesso vivendo, la libertà e la possibilità di esprimere anche queste cose oggi. In Europa le pietre d'inciampo sono oltre 80.000. La prodenone è entrata in questo museo diffuso della memoria nel 2020 grazie a un progetto del liceo classico Leopardi Majorana. Ciò che mi ha spinto a partecipare a questo progetto è stata la voglia di rendermi conto di quanto certi fatti, anche abominevoli, siano accaduti proprio in questi luoghi, dove io metto i piedi tutti i giorni e che senza appunto questo progetto non sarei stata in grado di capire a pieno. Una bella cerimonia, di questo devo ringraziare naturalmente i ragazzi del Leopardi Majorana, le loro docenti, che come sempre ci ripropongono quella che è il vero volto della storia. Una memoria che ci deve far riflettere, proprio in un momento come questo, di estrema sofferenza. Ci riporta a quei valori che in fondo hanno fatto l'Italia. In un momento come questo noi ne abbiamo bisogno. sentirci forti, sentirci caratterizzati dalla volontà di andare avanti. Credo che dobbiamo fare ricorso anche al nostro passato, al nostro bel passato. Quindi grazie ancora ai ragazzi che hanno voluto oggi non commemorare, diciamo riportare a vita quei due ragazzi di Pordenone che sono morti per la libertà.